Sein Weir, ora tocca a lui, vediamo se c'è la risposta, ma significherebbe provare un miglioramento per Sein. 21 e 99, ancora lungo, ancora lungo il lancio a pensione. Quelli sono 22, 21 e 90, Thomas Staneck, solo Staneck ha fatto più di 22. 27, non ha fatto più delle pettucce, caro Stefano, voglio vedere lo scritto sul tabellone. Sein Weir, ancora un superlaggio, 22 e 06, nuovo record italiano per Sein Weir, miglior prestazione europea stagionale. Che risposta per Sein, è andato a migliorare, caro Stefano, anche il 21 e 99 che aveva l'apperto. Mamma mia, lo possiamo dire, Sein Weir, Scaval Castaneck, non è finita questa gara, ma restate qui inchiodati perché abbiamo uno Sein Weir in forma stellare. Grazie. Grazie.